buongiorno volevo rivolgere un piccolo appello sia a youtube sia all'aie associazione italiana editori abbiamo visto che che anche gli editori sono in crisi per radio ieri sentivo che c'è un calo del c'è un calo degli acquisti di libri insomma legato anche alle manifestazioni promozionali dei libri insomma tutto nel momento in cui tutto si chiude e anche loro vivono di promozioni vivono del momento insomma anche loro ne risentono di questa situazione ma soprattutto in questo momento c'è molta gente a casa molta gente che deve stare a casa che magari non vorrebbe starlo e che non è abituata a starci in casa insomma ha bisogno di trovare delle cose delle occupazioni un modo per trascorrere il tempo il più serenamente possibile uno dei modi per trascorrere questo tempo è anche la lettura la lettura o chi poi non può chi ha facendato in altre cose eccetera magari l'ascolto del libro c'è chi anche preferisce insomma ormai si è abituato anche ad usare l'ascolto del libro più che non la lettura diretta magari ha problemi di visto che so io insomma sta di fatto che siamo in questa situazione speciale siamo in un momento un momento che in questo secolo verrà ricordato insomma è un momento che anche è destinato a durare secondo me un po nel tempo non si esaurirà dall'oggi al domani allora tutto questo per dire che ognuno di noi può fare qualcosa anche per gli altri nel mio piccolo e la mia offerta è quella di farvi avere dei dei libri letti e disponibili gratuitamente allora un appello a youtube che insomma ho visto che guarda o perlomeno si accorga dei miei video perché insomma è subito pronto a a togliere la monetizzazione o che so io insomma per per delle cose quindi a togliere la pubblicità anche per per delle cose che non che non meritano che sia tolta insomma semplicemente perché il video si parla o di malattia o di qualcosa di questo tipo insomma di cose che con cui ci dobbiamo confrontare tutti i giorni insomma no l'ha tolto addirittura anche per 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 qualcosa che che ho letto semplicemente da wikipedia insomma no evidentemente è di sentir parlare di certe cose che non funziona che non va bene per youtube allora lo dico a youtube e lo dico all'associazione italiana autori editori insomma io in passato ho letto tanti libri che ho dovuto togliere e che mi piacerebbe poter rimettere in in circolazione su youtube evidentemente per per voi insomma per darvi la possibilità anche di di trascorrere meglio questo tempo cioè libri più recenti insomma no che 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 sono anche libri che hanno avuto un certo successo insomma e racconti che ho dovuto togliere la gran parte dei racconti di buzzati per esempio che avevo letto bene io sono sarai disponibile ma sarei disposto a a metterli in circolazione ovviamente gratuitamente senza monetizzarli ma ovviamente non vorrei incorrere in sanzioni soprattutto da parte degli editori oppure in sanzioni per quello che riguarda la reputazione del canale da parte di youtube perché questo significerebbe un male ancora peggiore perché vuol dire poi non essere neanche visibile per le altre cose che invece sono state fatte e che continuano ad essersi perché non sottoposte a copyright allora se se io avessi un segnale che queste cose possono essere ripostate magari un po alla volta insomma e che possono esservi di compagnia di aiuto a trascorrere questo tempo che dovrà essere probabilmente lungo e anche un tempo molto preoccupato e quindi avere in un momento in cui poi teatri cinema tante altre cose sono chiuse l'unica cosa che rimane è la televisione che viene che viene gestita come sappiamo in cui passano le cose che sappiamo per lo più ecco io sarai disponibile ma insomma ho bisogno di un segnale penso che sarebbe una bella cosa anche da parte degli editori insomma andare per un attimo oltre il business oltre gli affari e poter consentire che venga messa a disposizione del pubblico gratuitamente una parte di opere insomma i cui autori sono anche per lo più morti ma sono morti da meno di 70 anni diciamo così in un momento in cui c'è bisogno di di solitarietà di come dire di un venirsi contro reciproci di un sapere che siamo di sapere che siamo parte di uno stesso sistema insomma che la vita il modo di proteggerla il modo di di trascorrere poi questo tempo proteggendo la vita e in mezzo a difficoltà di ogni genere può essere un modo insomma per per poter superare anche questa crisi una buona giornata grazie 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 grazie